L'amore è quando tu dichiari i tuoi sentimenti ad un altro. Quando una persona sta bene con l'altra. È una cosa forte, bella e super carina, è più bella dell'amicizia. Lo so. Quando due persone si amano. La mia famiglia. Quando due persone si corteggiano. Si può dare anche alle piante, non calpestandole, agli animali e alle persone. Emanuela. Quando la penso, cioè, sudo tutto. Quando parlavo con lui, mi sentivo tipo di svenire. Qualche volta, a ricreazione, ce ne andiamo in un posto, solo noi. E ci scambiamo tante coccole. No, è solo un'amica. Sento le parpalle nello stomaco. Fanno così? Sento le parpalle. Sento le parpalle. Grazie a tutti